Ciao amici di Menuao, benvenuti anche oggi a un nuovo entusiasmante unboxing e guardate che bello unboxing direttamente da MrRunning.com oggi è il 6 luglio, quindi insomma primo giorno di saldi ma già da un po' di giorni su MrRunning.com ci sono dei saldi imperdibili infatti anche io quando ho visto questo prodotto che adesso unboxizzeremo in offerta a metà prezzo ho detto cavolo lo devo prendere per forza perché la mia esperienza mi porta a sapere che questo prodotto di questo marchio in particolare è difficilissimo trovare i saldi massimo a un 30% di sconto e più in là nel tempo invece MrRunning ha praticato questo 50% di sconto per questo prodotto utilissimo per le vostre escursioni all'aperto in particolare dove si lascia l'asfalto e si affrontano sentire percorsi magari di montagna magari sterrati ma che va bene anche sull'asfalto perché combina il giusto compromesso vediamo subito di cosa si tratta perché questo pacco così grande perché non conoscendo la taglia di questo marchio giapponese di cui ora vedremo non conoscendo la taglia ovviamente ho dovuto prendere due paia di scarpe per consigliarvi anche quello che è il numero e come orientarvi per la scelta del numero bene abbiamo eliminato questa parte qui quindi ho ordinato il numero sia in 44,5 quindi 10,5 ASICS che però non corrisponde a 28,5 come tutte le altre marche di scarpe e quindi ho dovuto prendere per vedere un po' come andasse ho dovuto acquistare anche il numero 45 perché è previsto nella numerazione nella lunghezza del piede di 28,5 ecco qui l'unboxing come vedete abbiamo dato già i folli per l'eventuale reso che farò ovviamente di un paio e questo è il marchio ASICS il marchio giapponese mi serranno in mi da un piccolo omaggio bene praticamente cominciamo a prendere le scarpe allora questo è il numero 28,5 eccolo qui e questo è l'altro numero vediamo se non ho sbagliato sì 10,5 44,5 e poi il 45 come vedete perché corrispondono come vi dicevo 28,25 il 10,5 mentre a 11 28,5 centimetri 28,25 quindi vediamo un po' sono minime differenze di millimetri ma sappiate che possono fare la differenza in comfort e in comodità quando poi le scarpe vengono indossate e provate sulla strada vediamo un po' adesso le nostre ASICS che hanno un prezzo di listino vi dico già di 180 euro quindi parliamo di un prodotto top di alta gamma prodotto di nicchia comunque di un certo prezzo vediamo subito guardate che bella almeno la fantasia è davvero bellissima eccola qui la scarpa che recensiremo oggi si chiama Trabuco Max 2 il nuovissimo prodotto ASICS finalizzato a chi vuole correre le ultra maratone le trail maratone quindi le corse trail sullo sterrato in tutto comfort e in tutta sicurezza perché questo paio di scarpe AXIS Trabuco Max 2 ha il massimo dell'ammortizzazione come vedete in questa sua suola Oversides ha il massimo dell'ammortizzazione possibile per garantire un comfort di corsa che quando si svolgono le ultra maratone quindi quando si corre per più di 40 km addirittura serve una scarpa fondamentalmente eccezionale che possa garantire comfort, comodità e tutto guardate che bella guardate che suola la famosa AXIS The Grip recensita da ormai da anni come una delle migliori in assoluto per quanto concerne la stabilità e l'aderenza al terreno sul fango, sulla ghiaia in qualunque condizione climatica queste non sono comunque scarto impermeabili in Gore-Tex sono comunque piuttosto leggere e hanno dei dettagli davvero davvero bene al touch feeling si vede la qualità assoluta di questi prodotti prendiamo anche l'altra scarpa giusto così vedete ho preso queste due numerazioni perché ripeto non ho mai provato AXIS e questa offerta mi ha convinto a farla come sapete Men Wow utilizza di solito scarpe che abbiano l'appoggio per la pronazione quindi abbiano il sostegno per la pronazione tutelare la pronazione del piede e quindi aiutare nella falcata a sostenerla al coprantale questa scarpa comunque è neutra ma io metterò una soletta quelle che vi ho già recensito del Dr. Shorts che è ottima trovo veramente eccezionale e quindi per risolvere questo problema utilizzerò questa soletta all'interno per correre in tutta sicurezza ci sono però le Asics Trabuco 11 che hanno un leggero sostegno un leggero supporto all'arco plantale non è eccezionale però comunque hanno una suola più improntata a sostenere questo arco plantale bene allora guardiamo un po' la scarpa come è fatta ha il rinforzo nella punta un rinforzo piuttosto flessibile però che secondo me protegge bene tutte le dita dei piedi come vedete qui e nella parte posteriore abbiamo un tallone molto molto rigido e resistente poi abbiamo anche questa chicca dietro qui che serve per tenere i lacci fermi se si portano dietro e poi abbiamo anche quest'altro sistema che serve a bloccare i lacci una volta allacciate le scarpe per non avere alcun tipo di problema bene adesso mi sono subito le Asics Trabuco nella numerazione quella di 44 e mezzo vediamo un po' come mi sta e le vediamo indossate le vediamo ai piedi comunque queste Asics Trabuco contengono tutta la tecnologia possibile che si possa desiderare per correre in tutta comunità e nelle lunghissime distanze bene ho già misurato la prima scarpa in 44 e mezzo 28,2 cm ora misuriamo il numero più grande mi sa che comunque già va bene quella da 44,2 cm e che quindi manderemo indietro la 45 purtroppo Asics ha questo tipo di misurazioni un po' particolari certo va bene anche quella leggermente più grande però forse un po' più troppo come possiamo dire un po' troppo abbondante forse larga non lo so le troveremo con la soletta in ogni caso come sono ingarbugliati i lacci mamma mia che è allora esteticamente sono molto belle sono blu e rosse arancio adesso le vediamo subito indossate e vediamo un po' che effetto hanno eccole qui bene queste sono le trabuco max 2 le rie sono molto molto confortevoli il piede già ovviamente sembra che sia su di una nuvola devo regolare un po' la ok beh mi sa che va bene il numero un po' più piccolo 2,1 cm in meno perché magari tiene meglio tiene meglio la stabilità del piede sento comunque anche qui un supporto plantare dell'arco plantare comunque evidente anche se in teoria non dovrebbe esserci che ne pensate? beh dai sono molto molto belle molto molto comode e le consiglio vivamente a chi vuole anche non dico svolgere attività in montagna come la ultramaratona la corsa o altro le consiglio anche a chi semplicemente cammina non solo corre e affronta magari un periodo nel periodo estivo va in montagna per una vacanza e quindi ha bisogno di una scarpa che comunque vi garantisca non solo il comfort ma anche grip come vedete un grip che deve essere eccezionale come in questo caso dato da questi tacchetti alti 0,5 cm che garantiscono un comfort eccezionale sono guardi anche ad uncino quando si passa la mano sopra si vede chiaramente che sono tacchetti funzionali a al loro scopo insomma una scarpa molto bella io devo dire al piede sono davvero comodo e il colore è anche molto bello questo è un colore che si può abbinare con tutto e quindi per le vostre camminate in montagna non posso che consigliarvi questo prodotto tra buco max 2 che davvero davvero risulta essere eccezionale per quanto concerne la taglia andate to the sides sembra comunque che vada bene quella di 28,5 cm in effetto è un 28,5 cm più largo più lungo rispetto ai 28,5 cm di Oka per esempio ed è più simile a Mizzuno come calzata quindi va benissimo la taglia che ho scelto il 10,5 cm il classico 44,5 cm va bene bene amici di Mendoao con questo video quindi approfittatene vi consiglio di approfittare per questi salvi perché vi dico vi ripeto sono introvabili 89 euro per questa scarpa che costa di listino 180 conviene assolutamente comprarla per avere una scarpa comoda allo stesso tempo sportiva che può sostituire una scarpa addirittura da trekking per il trekking estivo per le lunghe camminate perché è camminatore perché vanno anche tanto di moda le camminate in montagna o per i sentieri e questa scarpa devo dire è una scarpa completa a 360 gradi perché va bene anche sui terreni accidentati ma anche sull'asfalto è destinata ad atleti che hanno un peso ideale l'ideale per quanto supporto è per quanta schiuma c'è qui che possono pesare anche più di 75 kg quindi atleti medio pesanti ed è un prodotto devo dire consigliatissimo infatti io le ho prese poi a metà prezzo figurati è ancora più allettante bene quindi su Mr. Running trovate questa offerta se non avete mai acquistato nulla vi danno anche 5 euro di sconto per acquistare i loro prodotti e quindi secondo me è da approfittarne a volo un abbraccio amici di Menwao e fate tanto sport non c'è niente di meglio al mondo che praticare sport con gli strumenti giusti come in questo caso a presto su Menwao ciao